Eccoli allora, da Roma collegati, Raffaele Raduzzi del Movimento 5 Stelle, buon pomeriggio e grazie. Buon pomeriggio a voi. Gianluca Cantalamessa, Lega, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Allora, intanto andiamo a Bruxelles, lì dove c'è il nostro Roberto Tallei, da lì arrivano notizie frizzanti, particolari dichiarazioni importanti da parte del Ministro dell'Economia Gualtieri e parliamo dunque di MES. Ciao Roberto. Buon pomeriggio Stefania. Allora, sappiamo che nella notte, quando si sono concluse le dure negoziazioni dell'Eurogruppo, è stato deciso di rinviare tutto all'Unione di gennaio. Diciamo che qui in Europa questa è una tecnica che viene utilizzata molto, molto spesso. Ma il Presidente dell'Eurogruppo Centeno ha comunque sottolineato come ci sia l'accordo di tutti e tutti e 19 i paesi che fanno parte del MES, quelli dell'Eurozona, su tutti i punti della riforma. Dunque, queste settimane in più serviranno per negoziare delle tecnicalità, delle clausole in particolare, su cui le posizioni di alcuni paesi sono diverse e distanti, in particolare su cui l'Italia tenterà di, attraverso un meccanismo molto complesso che non stiamo a spiegarvi, sostanzialmente di tutelare di più alcune tipologie di risparmiatori qualora un paese dovesse essere costretto a fare una ristrutturazione del debito. Nel frattempo però, insomma, il risultato politico concreto è che viene sminato il Consiglio europeo della prossima settimana a cui parteciperà il Premier Conte, perché appunto non si discuterà a questo punto, non si finalizzerà la riforma del MES. Per questo il Ministro Gualtieri si è detto molto soddisfatto. Adesso la palla, ha detto, passerà anche al Parlamento. Il Parlamento sarà coinvolto, ci si aspetta un'ampia maggioranza, dice forse anche oltre i confini della maggioranza di governo, su una risoluzione che sia a tutto campo europeista. Vedremo come si concretizzerà Gualtieri, che ha avuto però parole molto dure, toni insolitamente più duri appunto di quelli che lui utilizza in politica, nei confronti della Lega di Matteo Salvini, che dice quando è stato al governo ha sia alzato le tasse che ha aumentato il debito, e poi soprattutto nei confronti dell'onorevole Claudio Borghi, che oggi era tornato su un tema a cui non è nuovo, aveva detto sostanzialmente che discutere dell'uscita dall'euro non deve essere un tabù. E secondo Gualtieri questa è la prova che la Lega vuole uscire dall'euro e in questo caso rischia di mettere a repentaglio i risparmi degli italiani. C'è da dire che poi con alcune dichiarazioni in realtà Salvini ha tirato il freno su questo tema e ha detto che la Lega non ha alcuna intenzione di far uscire l'Italia dall'euro, ma vuole semplicemente mandare a casa questo governo. Quindi dicevamo comunque per Gualtieri il bilancio è positivo, attenzione perché sappiamo che Conte ha sempre parlato di logica di pacchetto, quindi mandare avanti il MES solo se va avanti anche l'Unione bancaria e la garanzia europea sui depositi. Attenzione perché sull'Unione bancaria in realtà già eravamo in una fase embrionale, i tempi si allungano ancora di più perché bisognava decidere in questa riunione la roadmap per discutere di Unione bancaria, i ministri non si sono trovati d'accordo neppure su questo. Ma Gualtieri ha visto il bicchiere mezzo pieno, possiamo dire, e dice comunque un bene che non abbia fatto passi avanti la proposta tedesca proprio sulla garanzia europea dei depositi che avrebbe significato una forte penalizzazione per le banche italiane. Quindi dicevamo complessivamente il ministro se ne torna a casa soddisfatto. Queste le sue parole e poi la linea allo studio. Il clima era positivo, io sono molto soddisfatto dell'esito dell'Eurogruppo di ieri. Come sapete si trattava di un passaggio molto importante, molto delicato, molto complesso. Occorreva da un lato tenere conto delle prerogative del Parlamento italiano, sostenere e difendere gli interessi nazionali su vari temi oggetto del negoziato e allo stesso tempo occorreva farlo evitando l'isolamento del paese, evitando di dare messaggi sbagliati circa l'impegno e il ruolo, la credibilità dell'Italia in Europa. Onorevole Raduzzi, a voi soddisfa, basta questo rinvio che c'è stato sulla firma del MES? Buongiorno innanzitutto. Sicuramente questo è un dato positivo, il fatto che il Parlamento, l'opinione pubblica, ci sia più tempo per discutere di quello che è un trattato internazionale. Quindi non stiamo parlando di una legge che magari è fatta male e si può cambiare dopo qualche mese. Noi stiamo parlando di un trattato internazionale che vincolerebbe il nostro paese da qui al futuro. Quindi se c'è più tempo è sicuramente una cosa molto buona ed è una nostra vittoria perché l'avevamo chiesto. Poi però ci sono anche luci e ci sono anche ombre perché sembra che comunque i margini di discussione sono pochi. Noi invece chiediamo che le tre criticità principali vengano risolte, quelle per il nostro paese, e soprattutto non c'è alcun avanzamento su quel completamento dell'Unione bancaria che rientra nella logica di pacchetto. Lo diceva benissimo prima il vostro corrispondente a Bruxelles. La proposta tedesca prevede in contropartita a uno schema di tutela dei depositi, quindi dei risparmiatori europei, una ponderazione dei titoli di Stato, quindi introducendo il concetto di rischiosità di un titolo di Stato e appunto questo avrebbe delle conseguenze molto gravi per il nostro sistema bancario. Quindi anche lì c'è uno stallo forte e dobbiamo dircelo, questa terza gamba dell'Unione bancaria non sta andando avanti. Allora, intanto vi dico che sulla prescrizione è una notizia appena arrivata. Di Maio dice a PD che le buone proposte sono ben accette, ma non bisogna minacciare iniziative individuali alimentando divisioni. Insomma, su questo tema almeno sembra che stiate andando verso un accordo. Dopo ci torniamo su questo. Invece, non lo ricanta la messa. Voi adesso che cosa intendete fare sul MES? Quali azioni evidentemente vorrete intraprendere? Le chiedo ancora, voi volete uscire dall'euro come dice il ministro Gualtieri? No, non vogliamo uscire dall'euro. Il nostro leader Matteo Salvini lo ha dichiarato più volte. È chiaro che la politica economica è fatta da una politica monetaria, una politica fiscale, una politica obbligazionaria e quindi la necessità di contestualizzare la politica monetaria in un discorso di politica economica non vuol dire assolutamente uscire dall'euro. Ciò detto, venendo al MES, è chiaro che il Premier Conte ha fatto un passo in avanti senza autorizzazione perché la risoluzione votata a giugno dall'epoca governo giallo-verde dava un mandato molto limitato al Premier Conte ad agire per quel che riguarda il MES e è venuto in aula il Presidente del Consiglio su richiesta della Lega e per il polverone che abbiamo alzato. Noi sabato e domenica saremo in mille piazze d'Italia contestualmente a chiedere agli italiani cosa ne pensano perché è chiaro che c'era una fuga in avanti ed è chiaro che era danno degli italiani. Le tre criticità non sono state messe in discussione, aggiungo che il Premier Conte ancora qualche giorno fa in aula parlava di una possibile discrezionalità dei ampi margini di manovra, così non è stato, tant'è che è stato rinviato voglio dire che è stata rinviata la palla più in avanti per non affrontare adesso il problema. Il Presidente dell'Eurogruppo portoghese ha detto chiaramente che ci sono limitatissimi margini di manovra tecnici e questo non può essere certo a danno degli italiani e quindi noi faremo tutto quello che è possibile per tutelare gli interessi degli italiani. Hai domande per i nostri ospiti intanto Fabio? Io avrei una domanda per l'On. dei 5 Stelle, che è un po' provocatoria, ma voi credete davvero in quello che dite? Anche voi avete detto che questa è una grande vittoria del Movimento 5 Stelle, però come non ha detto solo l'esponente della Lega che per carità è di parte, ma come ha detto anche tutta la Commissione Europea, questo trattato i paesi dell'Unione Europea lo hanno già di fatto sottoscritto, non potrà più essere cambiato rispetto a come è adesso. E i termini di, come dire, tecnici di manovra, cioè questa firma che è stata dilazionata di un mese, un mese e mezzo è l'impressione che hanno un po' tutti, è che serva semplicemente per cercare di appianare un po' le divergenze che ci sono in maggioranza perché tutto sommato all'Unione Europea un governo 5 Stelle PD che risponde signor sì ogni volta che l'Europa dice qualcosa che deve essere fatta tutto sommato, come dire, interessi di più all'Europa che non un governo magari di centrodestra o come era prima un governo giallo-verde un po' più euroscettico ecco io chiedo questo, ma voi ci credete davvero quando dite che in questi due mesi si possono cambiare le cose? Perché l'Europa ha detto il contrario. A proposito del governo di centrodestra che si oppone all'Europa ma lei lo sa che a istituire il MES è stato proprio il governo di centrodestra di Berlusconi dove abbiamo gente come la Miloni che era assente tanto per cambiare. Sì ma qui stiamo parlando della riforma del MES. No, bisogna essere chiari perché poi bisogna anche contestualizzare. Esatto, noi parliamo della riforma. Io ad esempio, mi dispiace, ho sentito parlare spesso i colleghi della Lega su temi che già stanno nel MES cioè non parlano nella riforma. Poi si va a interrogare Matteo Salvini e lui non sa neanche cosa sono le clausole CAX ad esempio io sono sicuro che il collega invece qui in studio con me saprà dire benissimo quali sono le implicazioni delle clausole CAX. Però c'è un tema, noi quel trattato non l'abbiamo sottoscritto, questo è un punto da dire e da ribadire. E il Parlamento non è neanche arrivato in Parlamento per essere ratificato quindi diciamo così i margini ce li dobbiamo creare sicuramente. Ma come si creano se l'Europa però dice che è chiuso sostanzialmente l'accordo? Come fa ad essere, sì, il tema è quel trattato è stato sottoscritto dal nostro paese, è stato votato dal Parlamento italiano? No, quindi evidentemente la trattativa è ancora aperta. Questo mi sembra logico e sostanziale. Quindi se ho capito bene, mi perdoni, non è ovviamente una questione personale tra me e lei ma se ho capito bene, cioè voi state dicendo che l'Europa, la Commissione di fatto sta mentendo perché l'Europa ha scritto nero su bianco che l'accordo c'è. Lei si sbaglia con i termini, qui non stiamo parlando di Commissione, ok? L'Europa, quel che è? Questo è un trattato tra i paesi dell'Eurozona. No, è diverso, vede, lei si sbaglia anche con i tecnicismi. L'Eurozona non è l'Unione Europea perché fa parte di quei paesi che hanno la moneta unica. Quindi stiamo già parlando di cose diverse. E io le spiego, le ribadisco nuovamente. Quel trattato non è stato sottoscritto, è ancora in discussione, tant'è che è stata rimandata la scadenza di un paio di mesi e quindi noi abbiamo tutto il tempo per andare in questi consessi e far valere le nostre ragioni che tra l'altro accomunano anche altri paesi. Perché se noi prendiamo ad esempio quella che è l'accesso alla liquidità precauzionale che penalizza molti paesi del sud Europa, del Mediterraneo che non avrebbero i requisiti del fiscal compact per poter accedere a quella linea precauzionale, ebbene, diciamo, ci sono secondo me i margini per agire e trovare un altro tipo di accordo. Noi vogliamo migliorare quello che è arrivato. Sì, poi finisco. Ma i contesti internazionali di cui lei parla, ogni giorno dicono che questo spazio di cui lei parla non esiste. Quindi io volevo capire, e la mia domanda era semplicemente questa, cioè questi spazi esistono davvero perché tutti quei contesti di cui lei parla dicono che ormai l'accordo è chiuso. Quindi qualcuno, adesso non voglio dire mente, però insomma qualcuno non la racconta giusta. Allora volevo capire se è il governo italiano che non la racconta giusta o sono i contesti europei che dicono una cosa sbagliata. Questa è la mia domanda finale. Ma sicuramente... Aspettate che vi porto un momento a Parigi. Mi scusate, mi scuserete senz'altro perché guardate le immagini che arrivano. Sapete che oggi c'è una protesta inizia, in realtà una protesta molto forte contro la riforma delle pensioni voluta da Emmanuel Macron. Si temeva l'arrivo dei black bloc e che dunque la situazione si agitasse ulteriormente in piazza. Ebbene, questo c'è stato perché sono arrivati i black bloc con tanto di lanci di fumogeni. Sono state danneggiate le telecamere degli operatori che riprendevano. Vedete il fuoco evidentemente è stato dato a delle barricate. Non riesco benissimo a distinguere cosa si tratti. Certo è che la tensione in questo momento è alle stelle. Una protesta da parte di più settori della società francese che andrà avanti sino a lunedì. A Plaza della Repubblica, lì dove si sono ritrovati alcune cittinaia di black bloc e dove sta arrivando il grosso dei manifestanti con giovani, come vedete, vestiti di nero, di volto coperto, con il cappuccio e che hanno appunto preso di mira e danneggiato anche alcune telecamere di operatori tv che le stavano riprendendo mentre questo è il corteo ben più pacifico lì dove stanno manifestando appunto migliaia di persone contro questa riforma voluta da Emanuele Macron. Un Emanuele Macron, presidente francese, che invece si dice calmo e determinato ad andare avanti. Ci torneremo. L'ho interrotta. Prego, onorevole Raduzzi, le chiedo di essere breve perché poi voglio andare anche dall'onorevole Cantalamessa e cambiare anche tema. No, sono abbastanza preoccupanti le immagini che avete fatto vedere. Tornando sull'ESM io non posso fare altro che ribadire. Noi come Movimento sottolineiamo un paio di criticità a fronte di uno sviluppo positivo sul backstop che è questa rete di protezione che potrebbe servire al fondo di risoluzione unico per le banche. però appunto su questo noi dobbiamo insistere. Ci siamo creati innanzitutto uno spazio allungando i termini. Quindi già fino a qualche giorno fa questo sembrava impossibile e invece ce l'abbiamo fatta. E in questo cammino noi cerchiamo di migliorare l'accordo. Chiarissimo, onorevole Cantalamessa, cambiando tema c'è quello della prescrizione che è fortissimo. Io voglio capire voi adesso che cosa fate? Perché voi avete votato quella riforma voluta tanto dai 5 Stelle e adesso che fate? Allora, una piccola premessa tornando al discorso per chiudere la parentesi del MES. Il Premier Conte non c'è una posizione italiana e una posizione dell'Eurogruppo. Esiste una posizione di Conte che è diversa da tutte le altre perché lo stesso Ministro Qualtieri ha detto che non ci sono margini di trattativa. Per cui io rimarco e condivido ciò che veniva detto da studio nel senso che i Conti non tornano. C'è qualcuno che sta mentendo perché se c'è qualcuno al Governo che dice che questo MES può essere modificato soprattutto per quel che riguarda la parte di una segmentazione di obbligazioni di serie A e serie B di singoli di Stato, parliamo di obbligazioni di titolo di Stato, quindi velocemente. Cosa vuol dire? Sì, perché ci sarebbe una segmentazione, una classificazione. No, ma scusi, mi spieghi un attimo questo punto perché non c'è alcuna segmentazione tra titoli di Stato. Come? No. Perché? C'è una differenziazione in base alle CACS, però voglio dire... Le CACS cosa sono? Le clausole di salvaguardia. Per favore, questo non è però una... No, le CACS sono clausole di azione collettiva. Sì, sono clausole di salvaguardia. Non è un esame, eh? No, però molto spesso la Lega si evidenzia dei problemi, ma non sa neppure di cosa si parla sul tema della riforma. Le clausole CACS, nello specifico, sono delle clausole legali dentro i titoli di Stato che determinano la maggioranza necessaria per il Paese per poter imporre una ristrutturazione. E qui, con la riforma che si fa, si alleggerisce la maggioranza che è necessaria per ristrutturare e quindi si rende più facile ristrutturare un titolo di Stato. Ma non è un questione di applicazione. Prescrizione, no, scusate, perché se no non ne usciamo. Chiedo scusa, giusto per precisazione, la ristrutturazione avviene in base al tipo di titolo di Stato e quindi vale quello che dicevo io. Del resto, la laurea in economia e l'abilitazione alla laurea promotore finanziario qualcosa mi sarà servito. Ci ho detto, volendo venire al tema principale, c'è la differenza tra quello che ha detto il Premier Conte e quello che ha detto il Ministro Gualtieri, perché uno dice che non si può fare nulla per l'Italia e l'altro dice che invece si può fare. Qualcuno di due sta mentendo e a spaffarne le spese è il popolo italiano. E su questo chiarisco, prescrizione, per favore, facciamo una domanda ai Pucchi. Perfetto, venendo al tema della prescrizione, noi l'abbiamo votata a patto che ci fosse una riforma del processo penale. Questi erano gli accordi sottoscritti con gli amici di 5 Stelle. Abbiamo preso l'impegno perché siamo persone di parola e l'abbiamo votata a patto che ci fosse una riforma del processo penale. Purtroppo di riforma del processo penale non se ne parla assolutamente. Abbiamo solo la prescrizione che diventa chiaramente una spada di Damocle su tutti i processi in corso perché è impensabile che una persona possa aspettare dieci anni per essere dichiarata innocente o colpevole e questo chiaramente mi auguro che, ma anche parte del Movimento 5 Stelle, si sta rendendo conto che è una misura a munca senza la riforma del processo penale chiesta dalla Lega. Bene, Nicola Ghittoni. Ciao dei nostri ospiti, ma la polemica che a scoppio ritardato sta rimbalzando sui social. Perché a scoppio ritardato? Perché il tutto nasce da un video postato il 27 novembre, ormai più di una settimana fa, dalla collega di Euronews Gardeni e Attrezzini. Il video è questo. I componenti socialisti della commissione appena insediata dalla commissione von der Leyen riconosciamo in un estremo dell'immagine anche il nostro commissario Paolo Gentiloni. Ebbene, qualcuno segnala la cosa a Giorgia Meloni che dice e parla di uno scandaloso e ridicolo teatrino. Questo è un tweet di Giorgia Meloni. Lega Salvini Premier, account ufficiale. Qua abbiamo cambiato, non era quello. Si parlava comunque di una contestazione di assurdo e ridicolo canzone e immagine della commissione. Chi invece lo difende? Nicola Zingaretti e Salvini. Se vivi in un paese democratico è perché ci sono stati tanti che hanno perso la vita cantando bella ciao. Non offendere la storia italiana. Oggi è notizia di poche ore fa. Interviene anche Paolo Gentiloni. Mi dicono che qualcuno si è scandalizzato perché abbiamo cantato bella ciao. Per me invece è un onore. In mezzo a queste posizioni si pone Carlo Calenda che dice ragazzi è una polemica sul nulla. Senza polemiche non esistono. Salvini e Meloni vivono di Cagnara. Insomma non gli date troppa importanza. Raduzzi io non ho sentito voci del Movimento 5 Stelle. Se lei dovesse rituitare uno di questi tweet quale sceglierebbe? Quelli di Meloni Salvini che dicono che è una cosa ridicola? Quelli di Gentiloni Zingaretti? Oppure quello di Calenda è una Cagnara? Sono solo polemiche. Forse è la prima volta in vita mia ma rituiterei quello di Calenda nel senso che abbiamo argomenti concreti su cui parlare, su cui discutere dal Messa, la prescrizione eccetera. Non mi sembra il caso di soffermarsi su una canzoncina cantata. Non lo trova insomma scandaloso? Onorevole Canta la Messa lo trova scandaloso? Quello che è successo? Il fatto che abbiano cantato bella ciao? Condivido che ci sono problemi ben più gravi, è chiaro che però questo è un segnale a mio modesto avviso che indica una rotta che si vorrebbe eseguire, una rotta che noi non condividiamo perché abbiamo il dovere di vedere quello che unisce e non quello che potrebbe separare o quello che comunque attiene al passato. Abbiamo delle sfide importanti che ci aspettano per cui sicuramente pensare ai problemi che vivono tutti i giorni gli italiani è fondamentale. Trovo che comunque sia scandaloso questo video. Canzoncina tra l'altro mi pare l'abbia definito l'ospite dei 5 Stelle, non è esattamente una canzoncina insomma se si pensa ai valori che stanno là dietro. Comunque Fabio su questo 10 secondi. Ha fatto bene a precisarlo, mi scudo. Che i rappresentanti del Partito Socialista cantino bella ciao non mi scandalizza nel senso che comunque fa parte per carità della loro storia e va bene. Quello che mi fa un po' sorridere lo dico con il massimo rispetto per bella ciao e con tutti i valori era una canzone di liberazione. Io la sento cantare in piazza da un popolo, quello delle Sardine che non cerca di liberarsi da un governo ma cerca di liberarsi da un'opposizione. Questa cosa devo dire mi fa un po' sorridere. Bene, così concludiamo. Grazie ai nostri ospiti collegati da Roma l'onorevole Raduzzi del Movimento 5 Stelle l'onorevole Canta la Messa Lega Grazie a Fabio Rubini di Libero Grazie a voi Buona giornata Con Nicola Ghittoni ci vediamo dopo e anche con voi tra poco dopo i titoli del Tg Grazie Grazie a tutti